Alla vista della volante della polizia ha tirato fuori dalla tasca dei pantaloni un involucro bianco e lo ha nascosto dietro alla panchina dove era seduto, ma è stato comunque scoperto e per lui sono scattate le manette. È successo ieri pomeriggio al parco del Colle del Pionta. L'uomo, un ventenne senegalese con precedenti specifici legati allo spaccio di stupefacenti ed attualmente colpito dalla misura restrittiva dell'obbligo di timora nel comune di Firenze, non appena viste le forze dell'ordine ha cercato di allontanarsi e poi ha nascosto lo stupefacente. Gli agenti sono prontamente scesi dall'auto ed hanno preso l'involucro, un fazzoletto di carta bianco dal quale sono venute fuori 30 dosi di droga del tipo cannabinoidi. Il giovane, una volta fermato, è stato trovato in possesso anche di diverse banconote di denaro di piccolo taglio, due telefoni cellulari e una patente di guida falsa, tutto materiale posto sotto sequestro. Il ventenne è stato così arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.